L'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila ancora una volta senza una figura che possa firmare atti e pagamenti. Il 31 dicembre è infatti scaduto il contratto del dirigente Giovanni Lucarelli diventato all'inizio di dicembre con un decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri di PCM il responsabile sia dell'USRA sia dell'ufficio speciale del cratere sismico dopo la nomina dell'ex titolare Raniero Fabrizi a capo della struttura tecnica di missione che da Palazzo Chigi coordina la ricostruzione dell'Aquila. Un DPCM che però ha previsto due vie differenti per la nomina del responsabile che avrebbe dovuto traghettare entrambi gli uffici fino all'arrivo dei relativi nuovi titolari e invece ne lascia uno scoperto, l'USRA appunto. Un iter quasi chiuso per l'USRC, la scelta dei sindaci e del sottosegretario Vito Crimi per il titolare è caduta su Raffaello Fico ma niente affatto per l'USRA per il quale il nome più papabile è quello di Salvo Provenzano ma non c'è ancora alcuna ufficialità. Iter, quello della scelta dei due titolari, che è insomma ancora lontano dalla conclusione in quanto oltre alla via libera del sottosegretario occorre un altro DPCM che ne formalizzi la nomina e soltanto da quel momento potrà partire la conta effettiva dei tempi tecnici per ottenere l'operatività dei nuovi capi. Ci vorrà almeno un mese per l'abolinatura della Corte dei Conti e poi l'autorizzazione del Ministero dell'Economia per la firma sulla contabilità speciale, ossia il conto corrente creato ad hoc per sostenere la spesa della ricostruzione e su cui ha potere di firma soltanto il titolare. L'ufficio speciale dell'Aquila ora si trova bloccato. Non solo nessuno può firmare la pubblicazione dell'elenco dei pareri relativi ai progetti approvati dall'USRA ma lascia anche i dipendenti senza stipendio, soprattutto quelli precari. E non è possibile acquistare materiale, carta, carburante per le auto con cui eseguire controlli nei cantieri o pagare le bollette.